Pazzia, hai preso la sveglia? Io? Dai, io. No, uno ci chiede se hai preso la sveglia, una volta. Eh, dai chi? Mai. Mai? Dai guardie, frate, solo dai guardie qua a te partite, basta poi. Ai cellerini mi hanno nominato la mia vita, basta. Ma, ma ascolta, io ho visto una foto, tu per terra. Eh, mi sono autolesionato, praticamente stavo dentro, ho commissariato, non mi volevano togliere le manette, io ho dato una caposciata alla finestra, alla porta a vesti e mi sono autolesionato e i guardi mi hanno mai toccato dentro quel commissariato. Perché la gente si pensa che mi hanno nominato. Mi hanno fatto una pippa, frate, ti dico la verità. Ti hanno fatto, eh? Cordite al culo? No, senza la vita al culo, fratelli. Però con le due mani così, da via. Gli ha sfornato tutta la caserma, eh? No, ho preso la caserma, chi ti ha detto? Se vedeva. Eh, eh, oggi ho preso la caserma, sì. C'erano solo i piedi, c'erano i mani, c'erano i mani, c'erano i mani così, c'erano i mani. Ha usato la testa, la riede e i piedi. No, gli ho detto, io ho detto, frate, ti fanno una cortesia, sono tre giorni che sono trippato, fracico. Stava morito in fatto, eh. Gli ho dico, invece, la testa ha manettato così. Mettemi i manetti avanti, che cambia, no? Mi ha detto, guarda, oh. Mi ha fatto un'altra da sedia in Brasile. Dico, guarda, po' che ti faccio vedere, è una cosa bella. Gli ho preso la cappa tutti i archivi di computer. Però non si fanno queste cose a casa, eh. Ok? Però eri sotto di qualcosa? Non ho capito. Eri sotto di qualcosa? Eri sotto di qualcosa? Vole 4 giorni che stavo sveglio. M'ho vimpato un eto. stavo sopra 50 bile mi ero bevuto ero non modificato ero abate grazie mille per la rinnovazione grazie a cazzo fratellino ma Donato hai scritto tu dici a 7.27 hai mai preso una bella sveglia ancora no ma fra qualche giorno stavo vicini di